C'eravamo abituati ad un clima mite, fuori dalla norma, giornate soleggiate e nessun accenno di cattivo tempo, ma nel fine settimana appena trascorso è arrivata, come già annunciato dagli esperti qualche settimana addietro, la prima verondata di gelo sulla città e in generale su tutta la Sicilia. Sembrano ormai un lontano ricordo le belle giornate di sole che ci hanno accompagnato fino a qualche giorno fa quando le temperature sono addirittura arrivate a sfiorare 20 gradi e l'inverno sembrasse non arrivare mai ed invece sabato notte i primi fiocchi di neve sono scesi su Caltanissetta. Non è stata di certo una nevicata a record, nonostante abbia continuato a nevicare anche nella giornata di domenica, ma le temperature sono calate drasticamente sotto lo zero. Nessun allerta meteo dunque, anche perché stamane Caltanissetta si è svegliata col sole, che seppur tiepido ha fatto sin da subito il proprio dovere, facendo sciogliere i cumuli di neve sparsi per la città e sopra i tetti delle abitazioni. Sarà dunque una giornata all'insegna del bel tempo, quella di lunedì, anche se il freddo si farà sentire. La situazione meteo rimarrà comunque sotto monitoraggio da parte della protezione civile e sembra essere scongiurato il rischio di altre nevicate nei prossimi giorni, ma fino a mercoledì sono previste temperature rigide e abbondanti piogge. Nel frattempo, già a partire dalle prime ore di stamane, sono entrati in azione i mezzi spargisale nei punti più critici della viabilità urbana.